e però cuginastria vi vedo un pizzichino in difficoltà nonostante la vittoria netta perché comunque l'inter il suolo fa sempre davanti però qualche speranzuccia per noi per noi inseguitori insomma lì giù da basso qualche problemino c'è dai dite la verità non diciamo che va sempre tutto bene dite la verità qualche problemino lì da basso c'è belli siete ragazzi buonasera 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 a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico nation nella casa del pane e baluno oggi non ci siamo visti prima è oggi compleanno di mio figlio insomma festeggiamenti abbiamo preparato una festa sorpresa quelle cose carine che insomma e non ho avuto modo non ho avuto modo poi sapevo che c'era la partita la sera detto vabbè ci vediamo la sera dai dai oggi oggi gli risparmio un po di rotture di scatole detto ciò insomma dobbiamo dobbiamo commentare questa partita tra inter torino finita con la vittoria dei nerazzurri per 3 a 2 però insomma un torino vivo un torino che insomma nonostante l'espulsione insomma rimanere in ghiaccia san siro non è semplice per nessuno è riuscito a fare la sua partita poi l'inter è stata superiore ma lo era già anche prima del dell'espulsione l'inter comunque stava macinando gioco il problemuccio che dico io non è tanto i due gol presi in 10 contro 11 è proprio i due gol presi e l'inter quest'anno mi sembra che ne stia prendendo un po troppi perciò insomma ne parliamo insieme cuginastri dai prima di cominciare come al solito vi invito ad iscrivervi al canale ragazzi è gratuito non costa nulla iscrizione attivazione della campanella un bel like al video ragazzi molto importante è gratis ragazzi non vi costa nulla e soprattutto fatemi sapere la vostra nei commenti fatemi sapere anche voi se siete d'accordo come con me cuginastri interisti o non insomma non vi sembra che quest'anno si subisce un po troppo non lo dicono solo i numeri che effettivamente quest'anno mi sa che ad oggi alla settima di campionato ha già preso più gol del girone di ritorno dell'anno scorso che ne aveva preso tre su 40 partite adesso non mi ricordo paro numeri a caso però mi ricordo che ne aveva presi molto molto pochi e mentre quest'anno già da quel punto di vista insomma i numeri sono abbastanza alti come 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 gol subiti detto questo vabbè l'inter davanti c'è l'inter il suo gioco ce l'ha e poi se non è se non è Lautaro è comunque Turam comunque gli attaccanti ce l'ha lì davanti il peso lo fa non possono essere tutti quanti sempre al 100% oggi ho visto un Lautaro magari un pizzico non spento perché poi lui il lavoro lo fa sempre c'è quello di andare a pressare quello di comunque fa sempre tanto durante la partita nell'arco della partita Lautaro fa sempre tanto poi ci ha abituato a fare anche tanti gol allora quando non li fa però il lavoro di Lautaro si vede no si sente soprattutto e perciò non possono essere tutti e due sempre al 100 per mille anche per quanto riguarda i numeri perciò se una volta una volta l'altra oggi ti fa una tripletta Turam fa oltretutto i primi due gol veramente belli perché due stacchi di testa veramente veramente belli quei classici gol anni 80 no insomma cross teso e colpo di testa che non se ne vedono più oramai vogliono solo giocare la palla vogliono arrivare in porta con la palla ma proprio quei gol tipo me ne viene in mente uno tipo quello di Hattley vabbè comunque dai l'esempio ci sta insomma quei cross belli tesi dalla fascia vi ricordate il gol di Hattley contro l'Inter nel derby 2-1 perché anche lì non vincevamo un derby forse anche lì da 4-5 anni insomma è stato spettacolare anche per quel ma detto questo cioè quei bei gol con giù dalla fascia cross teso e colpo di testa oramai non se ne vedono più oramai il gioco del calcio insomma è sempre giocare arrivare sotto porta non ci sono più questi gol qua e oggi ne fa veramente due bellissimi Turam perciò dal punto di vista della creazione del gioco l'Inter non la vedo meno dell'anno scorso assolutissimamente nonostante manchi Barella insomma comunque c'è i sostituti c'è i frattesi comunque poi può entrare Zelischi c'è Mkhitary anche comunque continua ad avere il terzo polmone attaccato dietro la schiena non so come faccia corre sempre perciò da quel punto di vista l'Inter c'è l'Inter c'è con gli esterni va Di Marco va Bastoni fa sempre il suo insomma Darmian insomma è una certezza da quel punto di vista quando deve attaccare quando deve proporre quando deve costruire a tutto insomma si può essere più o meno lucido in certe situazioni però insomma crea dal punto di vista difensivo inizia da soffrire un pochettino adesso poi parliamo anche del Torino perché bisogna dargli anche merito al Torino perché ha avuto la personalità in 10 contro 11 di reagire e di cercare magari di ravvivare la partita perché sennò diventava veramente un monologo ma dicevo dal punto di vista difensivo fatica fatica molto gli errori iniziano a essere tanti soprattutto Bissek è un periodo un po' nuovo sinceramente Bissek quando gioca ne combina sempre una più di Bertoldo insomma non so se non riesco a capire se è un problema di distrazione di magari superficialità o se magari c'è qualche crepettina che gli avversari devono iniziare a studiare perché insomma bisogna il campionato si vincono e si perdono anche per dei dettagli soprattutto quando le squadre sono forti perciò io vedo che c'è qualche problemuccio ma al netto dei numeri proprio problemuccio a livello difensivo c'è non capisco dove ma c'è perché insomma l'Inter continua a subire gol arrivando al Torino ragazzi il Torino non gli si può dire nulla comunque il Torino fa una prestazione super perché rimane in 10 contro 11 oltretutto espulsione netta perché c'era tutta quella espulsione lì l'arbitro non l'aveva vista ma insomma dal VAR dopo che è andata a vedere dal VAR si è visto c'è veramente un'entrata scellerata ma poi continuava il difensore a dire ma la prima ma è la prima ho capito ma non è che tu puoi farne quattro prima di essere espulso quella lì anche se è la prima e viene espulso non puoi entrare così te l'ha detto qualcuno detto questo non capivo perché continuava a dire la prima e la prima non so voleva farne due o tre prima di essere espulso il giocatore detto questo insomma il Torino ha avuto una reazione incredibile perché poi al ventesimo rimane in 10 e poi c'è subito un 1-2 dell'Inter pazzesco perché insomma Marco Sturam subito dopo 5 minuti fa il gol del 2-1 scusate dell'1-0 e poi dopo altri 10 minuti il gol del 2-0 sembrava una partita quasi diciamo chiusa dopo il 2-0 di Turam invece solo dopo un minuto Zapata anche lì dormita difensiva e Zapata accorcia le distanze lì sei in un momento della partita che oramai l'hai chiusa 2-0 l'hai chiusa 10 contro 11 in casa 2-0 l'hai chiusa non devi fare quell'errore c'è veramente incredibile lì si è addormentato si sono addormentati un po' tutti perché Zapata per l'amore di lui è un grande attaccante lui da solo in mezzo a tre insomma ha fatto tutto lui comunque riapre la partita e insomma chiudi il primo tempo poi sul 2-1 e 2-1 ragazzi 10 contro 11 avete visto cos'è successo cosa ha fatto la Juve in Champions le partite bisogna sempre bisogna sempre viverle con la tensione giusta al netto della superiorità che ti senti addosso al netto della superiorità numerica sul campo magari di giocatori perché sei in 11 e gli altri in 10 tu la devi vivere sempre con la tensione giusta perché può succedere tutto soprattutto quando c'è un gol di scarto e infatti insomma l'Inter chiudendo il primo tempo 2-1 non poco nervosismo anche da parte di Inzaghi giustamente però poi dopo è uscito sostanzialmente poi dopo è riuscito a fare il 3-1 con Turan subito dopo un quarto d'ora sostanzialmente partita finita però poi dopo a quattro minuti dalla fine anche lì altro intervento di Celanoglu insomma lì devi stare calmo perché quello ha preso la pace cioè lì si sono un po' addormentati pensando di avere la partita già in mano perché 86esimo minuto 3-1 10 contro 11 saranno stanchi e invece no stesso discorso gol 86esimo 4 minuti più 6 di recupero 10 minuti in 10 minuti ce ne passa di acqua sotto i ponti perciò rischi solo veramente di di non portare a casa una partita e perciò ripeto problema di distrazione non lo so l'Inter è un po' distratta lo è in difesa ultimamente c'è da dire che il Torino però è stato molto bravo a reagire a rimanere in partita e a rendere poi soprattutto la partita comunque da spettatore esterno piacevole no perché insomma dopo 20 minuti 10 contro 11 poi fanno subito il gol diceva vabbè che palla adesso finisce tanta poco e insomma non c'è neanche più divertimento invece insomma il Torino è stato bravo quantomeno a lasciarla a lasciarla partita abbastanza cioè a far diventare la partita abbastanza piacevole no rimanendo appunto in partita dai ragazzuoli nel frattempo oggi pomeriggio l'Atalanta ha vinto 5 a 1 contro il Genova tripletta di reteghi abbiamo oramai il bomber per la nazionale ragazzi tanta roba dopo mi vado a vedere gli highlights perché oggi appunto per il compleanno di mio figlio mi sono perso un po' di roba vado a vedere gli highlights poi magari diremo qualcosina domani quando facciamo facciamo il riassuntone ragazzuoli che dirvi vi abbraccio di cuore a tutti quanti vi auguro un buon sabato sera mi raccomando divertimetevi ma sempre con molta calma e niente dai ragazzi mettete un bel like al video e come dico sempre io bye bye